Riuscita manifestazione della moto Befana Interforze Benefica organizzata dai Protectors LEMEC Italy e con la partecipazione dell'Aido e della Croce Rossa italiana presso la piazzetta Ursis Bipuntato dei Protectors nell'area verde dell'ospedale di Ponderano. La nostra è l'ottava edizione per quanto riguarda la Befana Interforze è un'operazione che noi facciamo da circa 8 anni ed è di appunto portare del sollievo a bambini o comunque persone ricoverate all'interno dell'ospedale e tutto. Il gruppo Protettos è unito in questo ovviamente in tutti i chapter d'Italia e oltretutto invitiamo anche tantissime altre realtà motociclistiche, quindi oggi è una giornata veramente particolare, si esplica in questa donazione che noi facciamo e la quale siamo stati supportati da molto tempo da tante entità e soprattutto anche dal gruppo Interforze che è intervenuto anche oggi abbastanza numeroso. Come si svolge la giornata? Praticamente all'interno di questo momento noi consegneremo con un rappresentante per ogni gruppo motociclistico i doni all'interno dell'ospedale, dei bambini ricoverati e le neomamme. Successivamente ci sarà un momento conviviale e poi successivamente ancora qualche altra attività, ma diciamo così che riguarda un po' nel nostro interno, cioè l'invito a stare tutti insieme e a poter prepararsi forse per l'evento anche successivo, perché noi ogni tot mesi abbiamo praticamente la possibilità di realizzare degli eventi sia a scopo benefico e sia anche in memoria, lo ricordi diciamo in particolare di situazioni che sono accadute nel tempo. Allora Tex, ci sono anche dei gruppi esterni, non biellesi, ce li fai conoscere? Ecco qua, abbiamo qui a fianco a me Stefano dei Gerard Ores. Siamo dove arrivate? Noi arriviamo dal Friuli, siamo alla seconda divisione denominata Gemina dei Gerard Ores, è un motoclub di militare e veteran, sono tutti militari e siamo orgogliosi e contenti di partecipare a questo evento che è a scopo benefico con i nostri fratelli dei Protector di cui condividiamo quasi tutto. Quindi siete arrivati dal Friuli in moto? No, purtroppo siamo venuti in macchina perché avevamo i regali, quindi in moto non li potevamo portare, poi abbiamo qui a fianco a noi i Blue Knights. Blue Knights, buongiorno, sono Enrico, presidente del Chapter Italy 2 dei Blue Knights di Torino. In moto? No, anche noi avevamo i regali, è stata una befana con le slits, dai. Quanti siete nel gruppo? Noi siamo una ventina di Torino, abbiamo 9 chapter in Italia e il gruppo arriva dall'America dal 74 che c'è in giro per il mondo e siamo composti soltanto appartenenti alle forze dell'ordine. Quindi 50 anni quest'anno? Sì, 50 anni quest'anno, sì. Poi che abbiamo? A fianco ci sono comunque le Gionares, ecco qui, che arrivano da Milano. Da Milano. Da Milano? Sì, sì. Felici di essere qui con tutti i ragazzi, questa bellissima attività, questo magnifico evento. Anche noi con i regali in macchina. In macchina, va bene. E poi ci sono gli officer, ecco qui. Siamo gli officer, un MC nato in provincia di Venezia e siamo orgogliosi di essere qui con i fratelli Protector, a fare beneficenza che è una cosa che bisogna fare sempre nella vita, specialmente per i bambini. Lo presentiamo l'americano? L'americano nostro, dai? Sì, sì, sono il nuovo chapter di office di militare, sono di Giorgia. Dalla Giorgia? Sì, di Giorgia, sì. Ma abiti in Italia? Sì, abiti in Italia, sì. Per cominciare dopo, come detto prima, è il primo chapter di militare di office. Poi chi abbiamo ancora? E poi alla fine, come ultima, abbiamo uno dei nostri fedeli, amici, nonché club molto molto fedele, i Don Stryker. Buongiorno, io sono Davide, sono il presidente del chapter North District dei Don Stryker, veniamo un po' da Verona e un po' da Milano. E poi abbiamo una chicca qua, perché abbiamo due club di donne, eccole qua, e sono due presidenti. Allora, chi parla prima? Stefania, presidente delle Black Swan Italy, siamo nate in Romania, siamo 11 donne in Romania, 4 in Italia, veniamo da Verona. Ecco qua, complimenti. Ciao, sono Venus, Sheelmaidens Italia, siamo un gruppo che nasce in Italia e siamo in 5 per adesso. Tutte donne? Tutte donne e solo donne. Solo donne. E abbiamo anche il vicepresidente qui dietro, vuoi dire qualche cosa? Salve, buongiorno. Buongiorno, no, non voglio dire niente, ha detto tutto lei. Siamo felici di essere qua. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Ok? Quindi giornata riuscita? Ma penso di sì, dai. Adesso ci accingiamo ad andare nei reparti per consegnare i regali. Va bene, buon lavoro. Ciao. 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 Grazie a tutti